A dispetto delle maldicenze, non sono mai stato un tipo sanguinario io. Tosto sì, ma non feroce. Ero solo un ragazzo introverso, un po' impacciato, ma soprattutto ero perdutamente innamorato. Sì, sì, innamorato pazzo, affascinato, incantato, stregato, completamente cotto, lesso, bollito. Di lei. Già, avete capito bene, di Cappuccetto. La trovavo bellissima, dolcissima, deliziosa, adorabile. Ciao, lupo. Ciao, Matilde. Hai visto Cappuccetto? Che fai stamattina? Entri. Beh, hai visto Cappuccetto? Se per il compito non preoccuparti, ti aiuto io. Vabbè, hai visto Cappuccetto? No, non è ancora arrivata. Doveva già essere qui, ma lei è imprevedibile. Allora aspetto. Eh, sì, aspettiamo. Senti, ma tu non sei su Facebook? No. E perché? Beh. E perché non ti apre un profilo? Per farci che? Per scrivere quello che pensi, per condividere le tue esperienze, per raccontare ciò che ti succede. A chi? Agli amici, ai conoscenti, a tutti. A me. Ma te lo posso dire pure a voce quello che succede. Sì, ma non è la stessa cosa. A volte è più facile scrivere. Certe cose non sono semplici da dire di persona. E allora è meglio non dire niente. Ciao Cappuccetto. Ciao Matilde. Ciao Cappuccetto. Ah, ci sei anche tu. Ciao. Finalmente sei arrivata. Cominciavo ad essere in ansia. Perché? È ora di entrare. C'è il compito di matematica. Ah, già. Mi era passato di mente. Me lo passi tu? Eh, ci provo. Anche se sarà difficile. Io sono al primo banco, tu all'ultimo. Non preoccuparti. Te lo passo io. Tu? Ma se non conosci nemmeno la tabellina dell'uno. Nel senso che Matilde lo passa a me e io lo passo a te. E che cosa vuoi in cambio? In cambio? Niente. Ah, questa è bella. Vuoi vedere che ho trovato quello che fa le buone azioni senza pretendere nulla in cambio? Che gentile. E perché lo faresti? Così, per te. Ah, che dolce. Se lo fai per me, allora evita. Del compito non me ne frega niente. Io non entro. Ma come? Hai un quattro in matematica, devi recuperare e ti farai bocciare. Non mi bocceranno. Se volessero bocciare tutti quelli che non studiano si creerebbe il panico. La scuola si farebbe subito una brutta nomea. Nessuno si iscriverebbe più, l'istituto chiuderebbe e i professori perderebbero il posto. Una tragedia. Tu che fai, lupo? Vieni. No, ho deciso che non entro. Tanto non mi bocciano. Ma veramente l'anno scorso ti hanno bocciato? Sì. E anche due anni fa? Vabbè. E l'anno prima? Ma che c'entra? Non si erano fatti ancora i conti. Hai sentito chi ha detto a Cappuccetto? Quest'anno, se mi bocciano, succede una tragedia. Allora io vado. Sì, ciao. E vai. In quanto a te, non ti muovere. Mi servi. Chi? Io? Auuu!